Non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è stato arrestato. Un pregiudicato riesino di 44 anni, Giuseppe Siculiana, è stato fermato durante un normale posto di blocco. L'uomo si è fermato, ma durante l'alt intimato ha ingranato la retromaccia per ripartire e aumentare la velocità, schiacciando il piede di uno dei due militari che lo avevano fermato. Dunque è stato bloccato nuovamente e arrestato per oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.